sappiate questo fratelli che Dio ha dato Cristo Gesù al mondo per poter rivelare se stesso all'umanità e gli vuole rivelarsi ma così come è scritto crescete nella grazia la rivelazione di Dio e della sua grazia e per chi si dedica a queste cose voi mi cercherete e mi troverete sarà aperto a chi bussa e sarà donato a chi chiede fratelli dedichiamoci alla conoscenza di Dio perché quando il cuore è ripieno del suo spirito tutto diviene possibile quando la potenza di Dio scende su noi allora tutto si fa chiaro e il peso più grande si alleggerisce e diventa sostenibile fratelli fratelli dedichiamoci a queste cose dedichiamoci interamente a queste cose perché in questo è la vita questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo sia questo il moto della nostra vita per poter muoverci nella giusta direzione e trovare in Dio il conforto e la forza per attraversare questi giorni difficili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti